Nei primi dieci mesi del 2022 la Puglia ha già superato i dati del 2019 prima dell'emergenza Covid. È un anno da incorniciare per la regione dal punto di vista del turismo. È quanto emerge da un dossier presentato dall'osservatorio turistico di Puglia Promozione che analizza i numeri relativi al periodo compreso tra gennaio e ottobre. In questi mesi sono stati registrati oltre 3 milioni e 900 mila arrivi e quasi 15 milioni di pernottamenti, un risultato quest'ultimo anche migliore dell'anno pre-pandemia. Un vero e proprio record, considerato anche il fatto che i primi quattro mesi del 2022 sono stati caratterizzati da un clima di incertezza dovuto al nuovo diffondersi dei contagi, dall'aumento dell'inflazione e del costo delle materie prime, oltre che dallo scoppio della crisi in Ucraina. Eventi che hanno inizialmente frenato anche la ripresa dei viaggi. Ma è a partire dai mesi di aprile e maggio che è cominciata una nuova crescita della domanda turistica. Il movimento turistico dall'estero in Puglia nel 2022 è aumentato del 7% per gli arrivi e dell'11% per le presenze rispetto al 2019. Lieve contrazione invece per il movimento turistico nazionale con un meno 3 e meno 2% tra arrivi e presenze. Un risultato particolarmente favorevole che consente alla regione di recuperare i livelli pre-pandemia prima di quanto ipotizzato, ovvero il 2023. A determinarlo in particolare sono stati gli andamenti dei mesi di giugno, luglio e settembre. Molto buone anche le performance di ottobre. I dati che commentiamo oggi sono quelli di una Puglia che non solo ritorna al pre-pandemia, presenze significative che già ci parlano delle 15 milioni di presenze con due mesi ancora della chiusura dell'anno, ma che addirittura superano quei dati. La Puglia resta attrattiva e sulla base di questi dati pensa a riformulare la strategia che porterà la Puglia a 2030. Riteniamo che la scelta politica intorno all'analisi dei dati sia assolutamente quella orientata a condividere le informazioni. Come potete vedere quest'anno stiamo condividendo i dati molto prima della fine dell'anno rispetto agli altri anni perché riteniamo che le scelte strategiche debbano essere fatte in base a quelle che sono le analisi che prendiamo dal mercato. Per cui una grande apertura, una grande condivisione sulle strategie. Continueremo questo lavoro all'interno del piano strategico che ci vedrà impegnati nei prossimi giorni con dei tavoli verticali di prodotto per definire la strategia e per condividere anche le politiche di governance che sono ormai necessarie.